Dopo alcune sovrapposizioni di date che la scorsa estate avevano in un certo senso rovinato le varie iniziative messe in campo per il rilancio del commercio aretino, quest'anno a quanto pare c'è una nuova regia che funziona e mette in rete i vari soggetti. Gli operatori di Piazza Giotto hanno in ponte un'iniziativa in collaborazione con la Fondazione Italia Wave. Il prossimo 12 di luglio, a qualche giorno dall'apertura di Arezzo Wave 2014, la piazza ospiterà l'esibizione delle band emergenti finaliste, mentre sembra ormai certa l'organizzazione della Notte dei Saldi in concomitanza con la Fiera Antiquaria di luglio. Il 5 di luglio le attività resteranno aperte sicuramente, ma dentro le mura ed oltre, quindi coinciderà con la Notte dei Saldi. Io ho lavorato con l'associazione già l'anno scorso, abbiamo condiviso insieme tante idee, ma ora vediamo veramente dei risultati. I programmi sono nutriti e poi quello che è importante è che raccolgono un po' tutti, tutto il mondo che vive e che vuole vivere la propria città, per cui bambini, giovani, anche persone più mature, tutti in una gioia di stare insieme e di stare anche sereni.